Dopo la parentesi pasquale ripartiamo con la lettura, anche perché ci sono gli ultimi sette canti del secondo libro e poi i nove canti del terzo. Ricordo che il nono canto è incompiuto perché si ferma all'ottava 26, quindi siamo proprio in dirittura di arrivo del secondo libro sicuramente. Allora, siamo al ventisentesimo canto e si parla di Arione di Metimna, amico di Periandro e Tiranno di Corinto, autore di Ditirambi ed esperto nell'arte citarelica. E si era acquistato in tal modo molte ricchezze. Gettato in mare durante una navigazione da marinai desiderosi di depredarlo, ottenne tuttavia di poter cantare un'ultima volta. Ma a corso un delfino che rimasse incantato dal suo canto lo salvò portandolo sul dorso fino al Tenaro, un promontorio nel Peloponneso su cui era un tempio famoso come asilo. Infatti Boiardo comincia così. Così, un decitor che aveva nome a Rione, nel mar ciciliano in quei confini, ebbe voce sì dolce al suo sermone che allo ascoltar venia Antoni e Delfini. Cosa è ben degna di emirazione che il pesce immarra ad ascoltar se inchini, ma molta più di grazia la mia lira che voi, signori, ad ascoltar. Retira. Così dal cielo stimo insomma graccia e la mente vi pongo e lo intelletto nel dire a modo che vi satisfaccia e che vi doni allo ascoltar di letto. Puro a speranza che io non vi dispiaccia, come mi par comprenderne lo aspetto, se nella storia ancora io mi ritorno e di cui gran parte ho detto in molti giorni. Nel canto qui di sopra io vi lasciai di fugiforca il quale, essendo preso per brandimarte, menava gran guai, ed essendosi a lui per morto reso, con molto piante e con lacrime assai, standogli avanti alla terra disteso per pietate e mercè, la vea a pregare che non lo voglia alla lizza menare. Se tu mi meni alla lizza, parone, di me fia fatta tanta crudeltate che, ancor che ben la merte di ragione insinassassi, ne verrà pietate. De, prendate me compassione, non che io voglia campare in verità e che io merto che la vita mi sia tolta, ma non vorria morir più de' una volta. E là di me fia fatto tanto strazio, quanto mai se facesse di persona quel re del mio morir non sera sazio, che troppo ingiuriai la sua corona. E forse questo me ha condotto a Lazio, siccome nei proverbi si ragiona. E come esperienza fa la prova, peccata antico e penitenzia nuova, perché, essendo una volta la marina, qual dall'izza poco si allontana, però dia vi era in festa, la regina con dolistone intorno alla fontana, io là correndo, presi una fantina, qual poi col conte di Rocca Silvana, cambiai ad aspri e forno da due miglia, questa di dolistone era la figlia. Ne potei rene altrui donargli aiuto, sicchia la Rocca Silvana la Portaia, benché da ciascuno fui conosciuto, però che in quella casa me allevai, ne cota il tema poi me ha ritenuto, ma robato, ho il suo regno sempre mai, dispogliando ciascun sino alla braga, le braghe, le mutande. Ma questo è quello che per tutto paga. Pensando per andimarte a cotaldire, ne fu contenta assai per più cagione, pur disse al ladro, il te convien venire, in ogni modo a quel reddolistone, come Merti ti farà punire. Così dicendo il lega in suurronzone, con gran minacce, seponto, favella, poi la sua briglia dette a Doristella. E non parlava quel ladrò niente, perché di prendi marte aveva paura, o giungendo alla lizza, una gran gente, e trovarne armata sopra la pianura, da Doristella, fu molto dolente, lassa, dicendo, in che disavventura ritrovi il padre a questo mio ritorno, che è posto in guerra ed ha l'assedio intorno. E facendo di ciò molti pensieri, scoprisse avanti da cento pedoni e circa da altrettanti cavalieri, qual cridarno, voi seti pregioni, Altro che zanze vi saranno mestieri, rispose brandi marte, O compagnoni, a volerci pigliar così di fatto, tra le parole il brando vi ha già tratto. E gionse per traverso un cone stabile, c'è un ufficiale di corte addetto alle cose militari, qual era grande e portava la ronca armata a maglie e piastre innumerabile, ma tutta a un tratto trancheralo tronca. Né mai si vidde un colpo più mirabile, che la persona sua rimase monca, o di un braccio e della testa a un tratto solo, e l'uno e l'altro in pezzi andò di volo. Ben ne fece degli altri similianti, e le maggiorse, e Turpin dice il vero, sempre perché racconta Turpino, onde gli pose in rutta tutti quanti, beato se tenia chi era il primiero, quel dico che a fuggire era davanti, e non tenea né strata né sentiero, né indietro a riguardarsi volta un ponto, fugge ciascun insino, che al ponto è giunto, cioè il ponto giunto è il mare ovviamente. Ora nel campo si leva il rumore, allarme, allarme, ciascadun cridava addosso a brandivarte a gran furore, chi di qua, chi di là, ciascun toccava. E lui ben dimostrava un gran valore, ma contra tanti poco gli giovava, a suo malgrado quella gente fella, pigliarno Fior d'Elisa e Doristella. E seco Fugico Forca, quel ladrone, via nel menarno, come era legato, ma non cessa però la questione che brandimarte al tutto è disperato e fa col brando tal destruzione che si nella centura è insanguinato. Ne puote il suo destierle var passo per la gente morta in quel fracasso, ma per le dame è ciò poco ristoro, quale ha perduto a quel baron gagliardo. Lasciamo lui e torniamo a coloro che via ne le menarno senza tardo. E come avanti forno a Teodoro lui coniobbe Doristella al primo guardo e lei coniobbe anch'esso al primo tratto. come lo vide e ciò non fu gran fatto. Però che Ciascadun tanto si amava che altra sembianza non avea nel core, or quando l'un quell'altro lo ritrovava non fu allegrezza al mondo ma maggiore e Ciascadun più stretto si abbracciava dandosi basi, si caldi di amore. Che Ciascadun che intorno era in quel loco morì andè invidia, si parea bel gioco. Poi a lui conta la dama la ragione perché alla lizza era intorno accampato e faccia guerra al padre Doristone dicendo io venni come disperato a lui dando la colpa e la cagione che via te conducessi il renegato di Cosbergo che Dio gli doni guai ove ne andasti non seppi più mai. La dama ad ogni parte gli rispose e degli alla risposta a gran confort e l'avventura sua tutta gli espose come sbego a quel palaggio è morto poi lo pregava con voci piatose che divetasse ad ogni modo il torto cioè che impartisse ordini affinché Brandimarte non venisse ulteriormente molestato quale era fatto a quel baron valente che fu assalito da cotanta gente. Per il dover fu lui mosso di saldo e più dai preghi della giovinetta onde da lui mandò presto un araldo dove era la battaglia e un suo trombetta e là a trovarno Brandimarte caldo più che ancor fosse a far la sua vendetta ma come il real bando appunto intese lasciò la zuffa tanto fu cortese e venne con gli araldi in compagnia di Teodoro al pavaglion reale costruggia il regno degli armeni a via e lo trovarno a mezzo della via morta del padre a corso naturale con molta gente pompa trionfale intra quelle due dame ognuno bella qua a Fior delisa e là Doristella ricevuto l'incampo a grande onore il re Teodoro il tutto gli contò cominciando al principio del suo amore insieme al giorno ove Gionti sommò e poi lesse un degno ambasciatore che a Dolistone per Odia mandò per voler pace amendar quel che è fatto purché abbia Doristella ad ogni patto la cosa era passata in tal travaso travaso inteso come trambusto quale io vi ho detto in tal confusione fungiforche pur preso il rimaso che un tristo mai non trova buon gallone legato ancora si stava a quel malvaso con le mano alle rene in suo ronzone e Brandimarte che l'ebbe trovato dimandò al re che fosse ben guardato onde per questo con grande ligenza era guardato e con molta custodia coferre e piedi e non stava mai senza e per il suo malfa ciascuno lo odia or lo ambasciador con reverenza a Dolistone a Sodama per Odia per Odia parlò si bene e fu tanto ascoltato che quel concluse perché egli era andato e tornò fora con l'olivo in testa che era un segnale a quel tempo di pace bello olivo e poi la Somma espose di sua inchiesta qual sopra gli altri d'oristella piace tutti alla Lizza entrarno con gran festa ma fugiforca quel ladro fallace via era condutto lui con mal pensiero tra carriaggi sopra ad un somiero a una bestia da Somma nella Lizza per tutto è conosciuto chi gli gridava dietro e chi da un lato e lui diceva ma conmi doni aiuto che un altro non fu mai peggio trattato e Brandimarte poiché fu venuto avanti al re quel ladron appresentato il re mirando lui si meraviglia ben sa che è quel qual già tolse la figlia ma che si è preso si meravigliava conoscendo il cipresso e tanto astuto della figliola poi lo dimandava se sapea a lui quel che fosse avvenuto ed esso appieno il tutto raccontava insino che il prezzo ne aveva ricevuto ma che poi se partite in continente sicché di lei più non sapea niente per prezzo al conte di Rocca Silvana io la vendetti diceva il ladrone di sopra a Samadria la regione Brandimarte allora con voce umana a dimandava quel re dolistone se ebbe segnare la figlia che abbia a mente ma Perodia rispose in continente come Perodia Brandimarte udito rispose al dimandar senza dimora ne aspetta che parlasse il suo marito ma disse se mia figlia vive ancora sotto la poppa destra forse un dito ha per segnale una voglia dimora d'è un'amora di Celso Gelso ora mi amento essendo di lei pregna ebbi talento la mi toccai e tela come in acqua e sotto la poppa vea quel segno nero nemmai per medicina o forza d'acque se puote via levare a dire il vero or Brandimarte cioè non succede come nella voglia del figlio di di Adolfo Celi in Brancaleone alle crociate che gli lavano via la voglia dal sedere del bambino creando grosso scompiglio questo se puote via levare a dire il vero or Brandimarte siccome l'attacco e cominciò poi la storia il cavaliero a parte il fatto gli divisa siccome sua figliola è Fior d'Elisa e fatto gli altri tuordi quel cospetto però che Fior d'Elisa aveva vergogna la fece avanti allora aprire il petto onde più prova ormai non vi bisogna per odia d'olistone anta al diletto qual ave il prigionier quando si sogna la notte essere in peso e la dimane poi viene assolto e in libertà rimane come quello che condanna la morte ma viene liberato ciascuno pieno di lacrime la faccia piangendo gli altri ancor di tenerezza la madre lei e lei la madre abbraccia ognuna di basarse a maggior frezza fuggiforca fu fatta la graccia pregando gnom per lui nell'allegrezza cridi e lieti rumori a grandi vizia campane e trombe suonan di Letizia poi furono queste cose divulgate fuor nella terra e per tutto il paese con trionfo le noci ordinate con real festa ciascadun palese e le due damigelle for sposate che fiordelisa brandimarte prese e teodorsi presido di stella non so se alcun trovò la sua polcella alla polcella qui intesa come vergine come confermano i due versi seguenti poche sono quelle che si sposano pulzelle essendo più facile trovare un corvo bianco che tanto poche ve vanno a marito che meglio un corvo bianco si dimostra ma queste due siccome avete udito erano pur state avanti a questo ingiostra usavasi a quel tempo a tal partito ora altrimenti nell'età della nostra che ciascuna perfetta si ritrova e chi non crede lui cerchi la prova ora queste due dame che io vi dico cattolici hanno entrambe e cristiane cioè non solo cristiane ma cattoliche e macone avevano tolto per nemico e le sue leggi scelerate e vane onde ne andarno dal suo padre antico e si comprieghe con parole umane se adoperarno per la dio mercede che lo tornarno alla perfetta fede da poi la madre con minor fatica ridussero ancora la sua credenza santa e la corta la poscia a tal rubrica si attenne e la citate tutta quanta rubrica intesa come regola legge e senza che di questo più vi dica la grazia delle dame fu cotanta che dei monti d'Armenia alla marina corse ciascuno alla legge divina di ricontare non è mestiero la festa che ogni di cresce maggiore qua si fa giostra e là fa si torniero altrove suona e danza con amore ma pur sta brandimarte in gran pensiero ne se può il conte orlando trar del core infine un giorno la sua opinione fi è manifesta in tutta Dolistone mostrando quasi aver fermato il chiodo che in ogni forma Orlando vuol seguire diceva Dolistone io non te lodo per questo tempo adesso di ripartire ma seppur dello andare ad ogni modo sei destinato non so più che dire ne di ciò la cagio più te dimando il giro e il star sarà nel tuo comando una galea da poi fu apparecchiata di molte che ne aveva quel barbasoro questa era la reale meglio armata che aveva la poppa tutta missa d'oro brandimarte e sua dame più brigata all'asse all'ogarno con molto tesoro qual perodia ha donato alla sua figlia Rubin Smeralde perle a meraviglia tra l'altre cose il più bel pavaglione che si trovasse in tutta la Soria ora spira Levante il suo patrone gli accerta che ogni induge troppo ria onde se domandarno a Dolistone e a tutti gli altri vanno alla sua via passando Rodi e la isola di Creti col vento in poppa avanzoiosi e lieti ma il navigare è nostra vita umana di una fermezza mai non si assicura però che la speranza al mondo è vana nel mai buon vento lungamente dura qualora si levò da tramontana chiamando il greco che è mala mistura a cui di Creti volgire in Sicilia l'aria sia nera e l'acqua si scombiglia cioè si va sotto sopra a causa della tempesta dice il parone il cielo è turbato e meco e non me inganno già ma ben forza perché io vorrebbi nella tazza il greco e lui meldona nella vela all'orza cioè probabilmente qua c'è un gioco di parole fra vento greco e vino greco io non posso alla zuffa durar seco ve li piace convien che io mi torsa poi dice a Brandimarta a dire il vero con questo vento in Franza andarno spero Africa è quivi dal lato marino cioè dalla parte disposta verso il mare se drittamente ho ben la carta vista e noi volteggeremo nel camino che quando non si perde a stessa acquista forse muterà il vento Dio divino e cessarà questa fortuna trista pregarsi puote che un sirocco sirocco scirocco vegna qual ci conduca al litto di Sardegna parlava quel parone in cotal sorte chiedendo quel che egli avrebbe voluto ma tramontano ogni ora cresce più forte e il mar già molto grosso è divenuto onde ciascun per tema della morte facendoti voti a Dio dimanda aiuto ma lui non li esaudisce non li ascolta e sotto sopra il mar tutto rivolta pioggia e tempesta giù l'aria riversa e par che il cielo in acqua si converte spesso alla galea l'onda attraversa battendo ciò che trova alla coperta viene la fortuna ognora più diversa e spaventosa orribile ed incerta pur col vento che io dissi tuttavia sin che condotti gli ebbe in barbaria presso Biserd al capo di Cartagine son gionti ove già fu la gran cittade che ebbe di Roma similiante immagine e quasi partì seco per mitade cioè divise con lei metà della sua gloria di lei non si vede con Roma di lei non si vede or se non se cagene persa la pompa e la civilità dei gran trionfi e la superba altura tolti a fortuna e il nome appena dura or come io dissi il franco brandimarte fu gionto per fortuna in questo porto ma un fieco mandamento in quelle parte qui si allude Panizzi dice alle conquiste di Ruggero e di Sicilia che ogni cristian che arriva a Ivi sia morto perché una profecia trovarne in carte che infine a lungo andare o in tempo corto da un re d'Italia via la terra presa per cui da poi sarà l'Africa incesa e brandimarte che il tutto sapea non volse palesarse per niente avenga che di sé poco temea ma sì della sua dama e l'altra gente voleva difendere loro ma tutti disse ciò che far volea ma poi discese in terra incontinente presentossi allo emiraglio avante dicendo come figlio a mano Dante e come vien dalle isole lontane per vedere a Gramante la sua corte da provarsi a sue gente soprane qual son laudate al mondo tanto forte onde lo prega che quella di Mane lo faccia accompagnare con buone scorte sin che a biserta sia salvo guidato proferendosi a ciò de' esser ben grato e lo emiraglio che era assai cortese lo fece accompagnare di buona voglia e fiordelisa di nave discese e molta altra brigata con granzoglia verso biserta la strada si prese ed arrivarno senza alcuna noglia vicino alla citata una mattina e là fermarsi accanto alla marina da poi che ebbe donato molto argento a questi che gli han fatto compagnia coi suoi si ragunò balde contento sopra una larga e verde prataria dove dal mar venia suave vento tra molte palme che quel prato a via sotto di queste senza altra attenzione fece adricciare il suo bel pavaglione questo era si leggero e si pulito che un altro non fu mai tanto soprano una sibilla come agio sentito già stette a Cuma la sibilla cumana al mar napolitano e questa aveva il pavaglione ordito e tutto lavorato di sua mano poi fu portato in strana regione e venne al fine in man del dolistone io credo ben signor che voi sappiate che le sibille for tutte divine e questa al pavaglione aveva segnati gran fatti e degne storie pellegrine e presenti e futuri e di passati allora qua bisogna leggere la nota fatti e storie riguardanti la casa aragonese legatasi agli estensi attraverso il matrimonio di Eleonora col duca Ercole I nel 1473 quindi sono fatti contemporanei alla stesura dell'opera o quasi è noto che Boiardo fu tra i gentiluomini che il duca mandò a Napoli a prendere Eleonora d'Aragona nel 1483 dieci anni dopo gli aragonesi furono alleati degli estensi nella guerra contro Vina Negia ma soprattutto dentro alle cortine dodici Alfonsi aveva posti intorno l'un più che l'altro nel sembiante adorno nove di questi nella fine del mondo cioè fino al più lontano occidente natura invidiosa ne produce ma di tal fiamma il lume si iocondo che insieme all'Oriente facean luce che avea giustizia e chi senno profondo quale di pace e qual di guerra duce ma il decimo c'è Alfonso il primo magnanimo re di Napoli fino al 1458 di questi dieci volte le loro virtute in sé te ne era colte era proprio il magnanimo il massimo pacifico guerrero e trionfante giusto benigno liberale pio e l'altre degne lode tutte quante che può contribuire natura e dio l'Africa vinta lui stava davanti ingenocchiata col suo popolo rio vedete gli africani popolo rio ma lui d'Italia aveva preso un gran lembo standosi a quella con amore in grembo e come Ercole già sol per amore fu avvinto da una dama lidiana e qui è la leggenda di origine Lidia Ercole compiuta le dodici fatiche sarebbe rimasto tre anni in servitù presso la regina della Lidia un fale così a lui presi Italia vinte il core onde scordosse la sua terra ispana e si minò tra noi tanto valore che in ogni terra prossima e lontana ciasca du virtù che sia lodata o da lui nacque o fo da lui creata e qui proprio Boiardo fa la sviolinata massima ma l'undecimo Alfonso Giovanetto cioè Alfonso secondo di Napoli che regnerà fino al 15495 e qui invece Boiardo intende celebrare un altro Alfonso quel duca di Calabria che si segnalò come alleato degli estensi un alleato con l'ale armato a guisa di vittoria siccome la natura avesse letto un uomo a possedere ogni sua gloria che volendo di lui con dir perfetto di ciascuna cosa seguire la storia avrei scoperto non che il pavaglione ma il mondo tutto in ogni regione pur vi era ordita alcuna letta impresa di armi o di senno di guerra di amore sin come l'Italia da turchi difesa cioè qui si parla della liberazione di Otranto nel 1481 l'anno prima conquistata dai turchi per sua prudezza sole il suo valore la battaglia tutta era distesa di monte imperiale cioè in realtà Poggio Imperiale vicino a Poggio Bonzi dove nel 1479 sconfissero i fiorentini a grande onore le fortezze eruinate al fondo si pelle che erano di tronfi al mondo il duodecimo Alfonso figlio di Ercole I d'Este e appunto di Eleonora d'Aragona che avrà poi il nome di Alfonso I d'Este che protesse insieme al fratello cardinale Ippolito l'Ariosto e questo era vicino di etate puerile in faccia quale si riedipinto un febo piccolino coraggi d'oro in atto trionfale nell'abito si vago il pellegrino giungendovi gli strali e l'arco e l'ale tante abeltate avea tanto splendore che un uomo direbbe questo è il dio d'amore immaginate questo canto quanta presa potesse fare sul lettore a Reost avanti avanti a lui si stava in genocchiata buona ventura lieta nei sembianti e pare a dire o dolce figlio al guata alle prudezze degli avoli tanti alla tua stirpe al mondo nominata onde fra tutti fa che tu ti vanti di cortesia di senno e di valore di cortesia di senno e di valore si che tu faccia il tuo bel nome onore molte altre cose a quel gentil lavoro vi for ritratte e non erano intese con pietre preziose e con tanto oro che tutto illuminava quel paese di sotto al pavaglione un gran tesoro in vasi lavorati si distese d'esmeraldo e zaffiro e d'ecristallo che valeano un gran regno senza fallo non vi potrei contare in verità il bel lavoro fatto a gentilezza ninfe se li vedeano lavorate che erano tanto rigiate a gran vaghezza che meritano da tutti essere amate vede anzi cavalier di tal prodezza qui viene a ritratti a non mentire ma a qual fine alcun non sapria dire or brandimarte presto lo abandona come lo vede a quel campo dricciato sopra batoldo la franca persona pressa biserta si appresenta armato e con molta valdanza il corno suona nell'altro canto ve sarà contato come il fatto passasse e la gran giostra dio vi conservi e la regina nostra la regina nostra che è